Io sono Martina e la nostra azienda è un'azienda familiare, quindi non ci sono ruoli rigidi. Io però prevalentemente mi occupo delle degustazioni, dell'accoglienza e del rapporto con i clienti. Condividere la passione che abbiamo in famiglia non ha prezzo, quindi condividere le fatiche e le gioie insieme non ha prezzo. E quindi portare avanti un progetto comune che è nato come una passione, diciamo, quindi come una cosa estra che era il nostro lavoro principale, questo assolutamente ha un valore aggiunto per noi. Quindi anche i nostri figli sono impegnati in questo progetto, in questa rescita. Noi negli anni ci siamo in qualche modo specializzati, abbiamo acquisito anche nuovi terreni, nuove proprietà, abbiamo migliorato la cantina, abbiamo acquistato botti in legno, abbiamo recentemente acquistato degli orci in terracotta. Questo proprio spinti dalla voglia sempre di migliorarsi e di andare avanti, proprio perché crediamo in quello che facciamo e cerchiamo insomma di trasmettere la nostra passione agli altri e a chi appunto ha il piacere di venire a conoscerci.